L'idea, questo percorso in cui ci hai voluto coinvolgere, è stato molto bello, credo di parlare anche a nome degli altri assessori che sono qui, è molto bello soprattutto perché questo è un quartiere che ha bisogno, non metto il cappello su progetti che non sono nostri, sapete però che questa amministrazione ha voglia di realizzare, sta cercando di lavorare e di realizzare un progetto ambizioso che è quello della biblioteca di Scusa. Ora, non siamo in questo ambito, ma il progetto che il Presidente ci ha posto rientra nella concezione di questa logica, anche se poi con la biblioteca di Scusa faremo delle cose anche un po' diverse, ma non importa, perché l'ha detto lui del, il tema è quello di diffondere la cultura e di mettere la cittadinanza nella possibilità di intercettare e di avere degli spazi spendi, di crescere, di vivere, di scuola, da cui hanno tanta spinta che stiamo cercando di dare e intercettare, le risorse che stiamo portando a legnare per migliorare le nostre scuole, le nostre tante scuole, i costi dove i nostri giovani crescono, dove devono vivere bene, dove devono poter stare bene e poi i nostri giovani si possa incontrare la cultura, incontrarla in modo più piacere, in modo facile, in modo semplice. Il progetto che ci ha portato a testa è fare in questa logica, l'abbiamo sposato fino all'inizio, oggi sono contento, permettetemi di dire, sono ovviamente contento, perché questa è la scuola dove sono cresciuto anch'io da bambino e quindi è bello vedere un luogo storico, una delle scuole di Regna, sicuramente più antiche di Regna, che continua a vivere, continua a rinnovarsi, continua a dimostrare il punto della cultura, veramente è un albero che se viene alimentato, non muore mai, ma continua a crescere. Quindi grazie Presidente, grazie a tutto il personale, grazie all'associazione, ai volontariati che si stanno muovendo, che si sono già mosse e si muoveranno per fare in modo che questa biblioteca di fatto diventi a tutti gli effetti un punto di quartiere importante per tutta questa zona della città.